La Paganese non ha paura. Rincuorata anche dalle parole dei suoi dirigenti, in particolare del presidente Trapani, la squadra azzurro stellata ospiterà il Perugia senza timori reverenziali, pur consapevole che gli ombri sono nettamente superiori sotto l'aspetto tecnico-tattico. Il Perugia è stato costruito per vincere il Girone. La Paganese è stata allestita con tanti giovani che avrebbero dovuto rappresentare la sorpresa del raggruppamento. Per ora entrambe hanno deluso. Troppo incostante la formazione di Camplone, troppo evanescente il gruppo di Maurizzi. Di sicuro il patron della Paganese non vuole più vedere una squadra impaurita. Non si andrà all'arrembaggio del Perugia, ma si dovrà cercare di proporre un bel calcio, provando ad unire anche il risultato. Trapani crede fermamente nella possibilità di una risalita. Se così non sarà, come dichiarato nelle nostre trasmissioni, farà un passo indietro, modificando il progetto già nel prossimo mercato di gennaio. Per la gara contro i Grifoni, sicuro assente Velardi che in questi giorni non si è allenato. Possibile il forfè anche di Desena. Davanti recuperati Lanterie e William. Uno dei due dovrebbe scendere in campo dal primo minuto vicino a Novotni. La Salernitana invece avrà dalla sua una bella gatta da pelare. Il Catanzaro è una delle compagini che meglio si sta comportando in questo inizio di stagione. La formazione di brevi è continua. Ha perso una sola volta e è dimostrato di aver messo insieme il giusto mix tra esperti e giovani. In Coppa Italia Lega Pro la scorsa settimana vincere Granata per 2-1 i supplementari. In campionato potrebbe essere tutto diverso. Ecco perché mister Perrone ha chiesto la massima concentrazione ai suoi. Il gruppo intanto è stato ufficialmente rimpinguato con l'arrivo del centrocampista offensivo Mancini già l'anno scorso in forza ai Granate che Sanderra non aveva voluto riconfermare preferendogli Sacilotto, poi non arrivato e Volpe successivamente ingaggiato.